ARIANA Abbiamo chiamata perché è da qualche giorno che Arianna ha un po' di febbre, un po' di mal di pancia, è sempre debole Niente, ero sotto casa e un tipo ubriaco mi ha aggredito Il morbo di Gerber è una sindrome infettiva sostenuta da un virus Non ci sono aspettative di tornare ad una vita normale Stasera verrete con me e potrete vedere come lavoro Andrò a vigilare su una zona che mi hanno dato Grazie a tutti Grazie a tutti